Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Pacal, gioco competitivo da 2 a 4 giocatori, età 8 o più, una partita dura in media, una ventina, 30 minuti al massimo, offertomi dalla Cranio Creations, che io ringrazio di cuore appunto per questa copia recensione e che ormai anche con loro sono un anno e mezzo, quasi due anni, che ci collaboro ed è sempre un piacere e un onore. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Pacal, edizione italiana e gioco di proprietà della Cranio Creations, è un titolo, un board game di avventura che ci vede come esploratori all'interno di una giungla e alla ricerca appunto del tempio nascosto e perduto di Pacal. Quindi come Pacal, Pacal, non so dove va l'accento, comunque quello. E è molto carino perché è un gioco veramente veloce, di facilissima comprensione, poi ve lo farò vedere in fase di unboxing che il regolamento sono due pagine, ma davvero, levandoci la copertina e i crediti sono due pagine nel mezzo. Ed è un gioco facilissimo che secondo me si adatta veramente a tutti quanti i tavoli, quindi non c'è limite assolutamente di età. Una partita si fa sempre velocemente ed è il classico gioco con cui magari passare serata insieme agli amici. Classica competizione, come mi piace dire, pulita, sana e che una partita che tu la venga o che tu la perda comunque è stato piacevole da giocare. Vi faccio vedere un po' come funziona, ma prima di tutto unboxing, confezione del gioco, semplice nei disegni, nelle colorazioni, però veramente bellino. Sembrano un po' i classici, un po' Tempio Inca, Maya, qualcosa del genere, che ci ricordano anche un po' come tipi di figure, ma più che altro come raffigurazioni stilizzate. Quella appunto dell'epoca è usata da quei popoli. Come vedete i due autori sono italiani e il gioco è completamente italiano della Cranio Creations. Veramente carino. Apriamo. Il regolamento, che a parte la componentistica della pagina principale, prima pagina, seconda pagina, spiegate le regole, come si spostano le caselline e tutto quanto, e finale, conteggio dei punti e ringraziamenti e crediti, quindi è veramente no semplice di più. Questo qui è il tabellone del punteggio, più che altro è il percorso da fare. Tutti quanti gli avventurieri partiranno qua e dovranno arrivare fino in fondo nel Tempio di Pakal. E quando andate a girare la carta dopo aver fatto l'obiettivo, semplicemente muovete il vostro mino fino alla figura che avete trovato. E questo qui è doppia faccia, perché ci sono anche due percorsi distinti dove vanno a cambiare fondamentalmente le figure che ci sono sopra. Poi abbiamo tutti quanti i token, che sono le varie combinazioni, che vedete queste qui sono le plancettine obiettivo, tutti quanti i token per le figure che possiamo andare a utilizzare, e altra roba qua sotto che le solite bustine, giustamente per conservare tutto quanto, dei cerchiettini in legno colorati che sono per far vedere la nostra posizione sul percorso, e poi abbiamo queste plancettine qui, che sono quelle che serviranno per essere messe qua dentro, e su cui dovrete andare a mettere i cubettini colorati a coprire, che tanto poi ora ve lo faccio vedere nella spiegazione, che sono praticamente questi qua. Tutti quanti colorati e questi qui invece trasparenti per andare a selezionare le figure. Vi faccio vedere un po' come funziona. Le meccaniche del gioco sono semplicemente quello all'inizio del turno, uno dei giocatori gira una delle carte obiettivo, e ci saranno sempre su queste carte tre simboli che voi dovrete ritrovare nel vostro quadrante. Quindi semplicemente voi all'inizio del turno dovete prendere tanti cubettini quadratini colorati, da mettere sopra tutte le caselle del vostro quadrante, della vostra scheda campo di gioco, e ne avete anche quattro che sono trasparenti, e quelli trasparenti servono per spostarli, fare una specie di combinazione, una specie di minigioco, dove dovete andare a trovare soltanto e unicamente gli obiettivi della carta che il primo giocatore, comunque quello attuale di turno, ha girato. Carta che poi è in comune fra tutti quanti i giocatori. Quindi se sopra ci fossero tre simboli, ad esempio, dico così a caso, un drago, una barchetta e un tempio, voi dovete trovare drago, barchetta e tempio girando nella vostra area di gioco quadrante, spostando, non le potete alzare e togliere, dovete semplicemente spostarle in combinazione, e devono essere tutte coperte, forché quelle tre appunto dell'obiettivo, sotto i quadrettini trasparenti. A quel punto avrete superato la prova, potrete prendere una carta punteggio, e nella carta punteggio che andate a prendere dovete stare attenti che non ci sia lo stesso simbolino che era nella carta obiettivo. Quindi se nella carta punteggio che voi tirate fuori c'è un drago, non guadagnate punti, perché era uno dei tre che dovevate trovare nella carta obiettivo. Se invece sopra ci trovate in antefigura la scimmia, ad esempio, o comunque qualcosa che non era raffigurata e che non dovevate cercare nella carta missione, avete guadagnato il punto e sul tracciato generale andate a vedere rispetto a voi dove siete messi, dov'è il simbolino della scimmia, ad esempio, e seguite, fino a che non arrivate allo step successivo. Quindi la carta punteggio che tirate fuori una volta che avete fatto la combinazione vi potrebbe mandare di tante caselle più avanti, quanto anche di uno o due soltanto, quindi anche lì è un po' di fortuna di pescare quella giusta. In conclusione, questo Pakal è un gioco divertente, molto semplice, poi vedete anche contenuto come dimensioni, quindi si porta tranquillamente, ed è il classico gioco dove bisogna anche avere una buona memoria fotografica, e io mi ci troverei veramente nel dramma, perché io anche se vedo 20 volte dove sta una cosa, poi non me ne ricordo mai. Comunque, al momento, visto che poi la carta e il tuo quadrante di gioco rimane sempre quello, beh, non male le figure più o meno imparerai dove si trovano e tutto quanto, quindi al momento che le vai a coprire, devi andarla a scoprire, passandoci sopra il quadrettino, quello trasparente. Ci vuole un pochino di attenzione, ci vuole un pochino di memoria, ci vuole un pochino d'occhio, ricordarsi anche dove sono, anche perché il gioco, non ve l'ho detto precedentemente, ma in tempo reale, non è a turni, quindi il primo che arriva e riesce a fare la combinazione, prende il punto, però non soltanto il primo, potrebbe arrivarci anche un secondo, perché fino a che non scade il tempo, ci sa la possibilità di girare e giocare, quindi potrebbero indovinare tutti e tre, come non indovinare nessuno, e mano a mano che il gioco va avanti, diventa sempre più difficile, dovete togliere un quadrettino trasparente, così che ci sia meno possibilità di trovare, o comunque meno spazio per le manovre, per andare a cercare i simboli. È un gioco semplicissimo, io ringrazio ancora una volta la Cranio Creations per avermi offerto questa copia per la recensione, e se lo volete ordinare, primo link in descrizione e in sua impressione dalla Gioco Libreria Simola, nostro negozio sponsor, al miglior prezzo sul mercato. Se lo trovate in lista, ma è terminato, oppure proprio non c'è nel catalogo online, mandate una mail a Corrado, che è il gestore del negozio, e al supporto, e diteli, guarda, arrivo dal canale di Cordon, il gioco l'hai finito, oppure proprio non ce l'hai, ma comunque si potrebbe ordinare, lui farà il possibile per ordinarvelo, al miglior prezzo sul mercato. Vi ricordo, come vedete a nota, usate sempre il codice discount Coridan7, per avere uno sconto pari al 7%, e se superate la spesa di 79€, corriere in 48 ore in tutta Europa, quindi anche fuori dall'Italia, e conosco gente che ordina la Gioco Libreria Simola dalla Spagna, dal Portogallo, e da altre nazioni comunque, all'infuori anche del territorio nazionale. Il servizio è molto buono, quindi poi è veramente anche molto cortese e tutto quanto, dateci un'occhiata. Io ancora una volta ringrazio Cranio Creations, e ragazzi è il classico gioco veramente per tutti. Questo è il gioco per grandi, per piccini, per chiunque. Mette al tavolo e si fa una bella partita e ci si diverte. E c'è anche quel pizzico un po' di avventura, un po' all'Indiana Jones, che non fa veramente mai male, e ci fa sognare un po' tutti a occhi aperti. Ciao ragazzi, alla prossima!